Continuano le segnalazioni dei cittadini residenti in Viale dei Pini a San Leone, frazione balneare di egrigento per un problema che riguarda la pubblica incolumità. Più volte infatti è stata segnalata la pericolosità di alcuni alberi di pino che insistono ai bordi del viale e che si trova in uno stato di abbandono che destano preoccupazione. In particolare verso la metà della traffica tarteria ci sono tre alberi completamente secchi che sono a rischio caduta. Al di là delle operazioni di potatura che gli organi competenti hanno provveduto a fare, molti alberi sono ancora con rami che toccano la parte superiore dei camion che si spostano al centro della carreggiata per non toccarli. Tra le segnalazioni anche quelle che riguardano i topi che hanno scavato la loro tana all'interno dei tronchi degli alberi. La paura dei residenti è che possa ripetersi ciò che è accaduto qualche mese fa quando a causa del maltempo un albero di pino è caduto sulla strada danneggiando un'autovettura che era parcheggiata nei pressi. Gli abitanti quindi continuano a chiedere più attenzione da parte degli organi competenti prima che la caduta di uno o più alberi possa causare seri problemi.